Siracusa, pusher evade dai domiciliari e sorpreso dai carabinieri. Un 22enne è stato sorpreso nella giornata di ieri dai carabinieri del nucleo operativo della De Mombria della Compagnia di Siracusa nel corso di un predisposto servizio finalizzato al controllo dei soggetti sottoposto alle misure cautelari pianificato dal comando Compagnia che hanno tratto in arresto per il reato di evasione Michele Amenta, 22enne siracusano, disoccupato e con precedente di polizia. Nello specifico il giovane già agli arresti domiciliari dall'aprile scorso per reati in materia di stupefacente è stato individuato dai militari dell'arma a girarsi per le vie cittadine senza alcun giustificato motivo o specifica autorizzazione. Amenta è stato quindi dichiarato in arresto per avere commesso il reato di evasione e ultimato le formalità del rito presso il locale della Compagnia di Siracusa così come disposto dall'autorità giudiziaria e è stato risottoposto nuovamente al regime degli arresti domiciliari.